Ancora i soliti esercizi per le vacanze. Pagine, pagine noiose. Quando il numeratore è minore del denominatore... Uffa, che bella giornata. Qui serve una soluzione. Buongiorno professoressa, ma qualcosa di più coinvolgente ho io la soluzione? Ho appena ricevuto questi. I crucionda. Interessanti. Grazie. Ancora, un altro libro. Sembra diverso però. Ma, ma che io... Crucionda. Fai la differenza.